Cari amici di Di Pomeriggio, eccoci oggi in compagnia di due ospiti di eccezione, sono qui con me in studio, Alessandro Palladoro, docente dell'ITS Agroalimentare Teramo e Sara Moretti, è una studentessa, sono qui con me per parlare proprio dell'ITS. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, grazie Barbara. Allora, io oggi ho proprio voglia di toccare con mano il mondo dell'ITS per quella che è la sua caratteristica più peculiare, cioè la concretezza e proprio la vicinanza con il mondo imprenditoriale. Quindi, caro professore, Startup e Management, un insegnamento che proprio lei propone in maniera assolutamente concreta. Come? Assolutamente, sì. L'ITS è una realtà che sta sviluppando un percorso formativo molto innovativo, basato appunto, come dicevi tu, giustamente sul pragmatismo, cioè sullo sviluppare delle competenze pratiche per i ragazzi in modo da poterli inserire nel mondo lavorativo con delle competenze all'avanguardia. Nella mia materia Startup e Management, che è una materia in continua evoluzione, ci dedichiamo molto ad attività pratiche anche di gruppo, finalizzare ad andare a sviluppare le peculiarità che ogni alunno ha, in modo da fare una formazione anche calibrata su quelli che sono i loro aspetti, i loro punti di forza e sviluppare anche i loro magari punti, diciamo, un po' meno evoluti. Questo lo facciamo valorizzando le differenze. Sara, un percorso, quello dell'ITS, che per te è iniziato lo scorso anno, sei al secondo anno di questo percorso formativo, come hai pensato di iscriverti all'ITS e come mai? Allora, diciamo che io venivo già dal mondo del lavoro, ho 31 anni, quindi ero avviata sul mondo lavorativo. Mi sono ritrovata a 31 anni a non essere soddisfatta del mio percorso proprio lavorativo e quindi mi trovavo di fronte alla domanda, continuo così e rimango insoddisfatta oppure mi do una svolta. Mi sono quindi licenziata e ho saputo dell'ITS e tra i vari percorsi che avevo a disposizione è stato quello che ho preferito, sia per il fattore tempo. C'è un percorso che dura due anni, quindi è ricco, ampio, ma non lunghissimo come può essere quello universitario per le mie esigenze. E in più il fatto che ti faceva toccare con mano il mondo del lavoro e soprattutto il mondo del lavoro oggi, quindi non fermi a quello che si era prima. A proposito di questa innovazione che comunque insita proprio nella formula ITS, so che proprio nei tuoi corsi, ci diamo del tuo, nei tuoi corsi quest'aspetto innovativo e assolutamente pratico è proprio esaltato a tutti gli effetti. In questo momento tra l'altro state sviluppando un progetto che forse vedrà proprio la luce in maniera concreta. Ci auguriamo, ci auguriamo perché ha già stimolato un discreto interesse, è un progetto molto interessante, sviluppato in un ITS di Avezzano dove si sta appunto portando avanti un progetto per implementare un ortaggio che è la patata tipica autottona di Avezzano che però verrà sviluppata con una peculiarità già intrinseca di variazioni organolettiche che porteranno già a una certa piccantezza. Questo grazie all'Università dell'Aquila con cui si collabora e proprio per andare a fare questo tipo di interventi. Questo quindi anche l'importanza dei partner che affiancano poi l'ITS, sono partner istituzionali, sono tante aziende che comunque sono vicine all'ITS, abbiamo anche visto nei Career Day questa straordinaria partecipazione delle aziende al percorso formativo. I ragazzi proseguiranno tutti quanti con delle attività pratiche all'interno delle aziende di cui noi facciamo da ponte, da link all'interno del mondo del lavoro e dobbiamo prepararli per questo con sempre più competenze pratiche. All'interno per esempio dei nostri corsi in questo momento sviluppiamo le competenze di utilizzo dell'intelligenza artificiale, della digitalizzazione proprio per prepararli e anche per fornire al mercato del lavoro delle persone che siano all'avanguardia, aggiornate non solo teoricamente ma anche con attività pratica. Sara tu sei al secondo anno e quindi sei proprio in procinto di iniziare questo tirocinio, che ricordiamo è un tirocinio importante, sono 800 ore all'interno delle aziende e hai partecipato al Career Day, hai già qualche idea? Allora sì, partecipo al Career Day, tutte aziende comunque interessanti, legate al territorio, attenti anche al discorso ambiente, impatto ambientale. Ancora non ho ben chiara la scelta, con un po' di tempo ci arriviamo. Anche grazie all'aiuto di Marianna, la nostra... Ricordiamo la Marianna Patalano che è sempre vicina nel coordinamento tra aziende e studenti, perché il match proprio tra l'azienda e lo studente è un momento fondamentale, perché se va tutto bene, insomma dal tirocinio abbiamo visto che spesso, professore lei mi può confermare, il tirocinio poi prosegue con un contratto di lavoro, più volte è accaduto. Assolutamente sì, è il nostro obiettivo principale. E quindi 800 ore dalle quali cosa ti aspetti Sara? Allora mi aspetto di sicuramente mettere in pratica tutte le competenze acquisite durante il corso, di migliorare sempre più e di aprirmi una strada a una professione che mi dia soddisfazione, crescita, sia personale che lavorativa. Qual è l'ambito in cui preferiresti lavorare? Allora, mi piace la logistica, la trovo interessante, un settore che comunque sia a bisogno e comunque è sempre in crescita e infatti con il corso abbiamo anche l'opportunità di fare la certificazione SAP, dove andiamo a sviluppare proprio due moduli particolari, che sono il modulo sulla distribuzione della logistica e sull'acquisizione delle materie prime. Quindi andremo ad aumentare ancora competenze sempre più specifiche per impostare un discorso lavorativo. Molto importante, molto importante perché sono anche tecnologie che non è facile imparare in altre situazioni, e avere a disposizione dei docenti e il software adatto, credo, professore, che sia fondamentale e anche raro, diciamo. Tra l'altro ricordiamo che è una formazione completamente gratuita, incredibile, magia. Professore, ma lei da insegnante, se dovesse dire ai ragazzi, dovete iscrivervi all'ITS, perché? Perché vi prepara realmente a quello che poi è il mondo del lavoro. Ricordiamo che noi professori veniamo tutti dal mondo del lavoro, siamo tutti partner di imprese attivamente coinvolti nel mondo del lavoro, quindi comprendiamo molto bene sia quali sono le esigenze attuali oggi che hanno le imprese. E per questo possiamo essere appunto promulgatori di competenze e di anche cultura che poi può essere realmente implementata all'interno delle aziende e non invece di seguire programmi didattici, poi che alcune volte si possono arrivare dei vicoli ciechi. Quindi questa vicinanza che lo ricordiamo spesso è anche fonte di ispirazione per l'ITS, che tante volte recepisce proprio quelle che sono le esigenze concrete delle aziende, partner e addirittura si preparano proprio dei percorsi formativi ad hoc per quelle che sono le necessità proprio delle aziende in questione. Io intanto ricordo ai nostri telespettatori che le iscrizioni all'ITS sono state prolungate perché c'era una scadenza fino a ottobre ma è stata prolungata fino al 12 novembre per cui tutte le informazioni si possono trovare tranquillamente online o comunque tramite i nostri canali comunicativi. Perfetto, quindi è assolutamente tutto o sul sito, sulla pagina Facebook o chiamando direttamente l'ITS. Ci sono le bravissime dipendenti dell'ITS pronte a rispondere a ogni vostra domanda, ogni vostro dubbio. Ringrazio dunque Alessandro Palladoro, docente di Startup and Management all'ITS agroalimentare di Teramo e Sara Moretti, studentessa, al secondo anno e in procinto di iniziare il suo tirocinio formativo. Abbiamo parlato di ITS, abbiamo parlato di formazione, ma adesso prima di dare la parola allo studio andiamo a vedere invece cosa ci racconta Raffaele Gianzante che per noi è stato a Pescara, l'inaugurazione che è stata ad ottobre del MIC Hub, un polo culturale ed innovativo creato a Pescara appunto dalla Fondazione Pescara Abruzzo.